Ciao ragazzi bentornati, come vedete canestrello sempre alle mie spalle, oggi però la sfida che vi lancio è una sfida di velocità, un esercizio semplice da fare alla velocità più alta possibile, quindi gambe aperte, gambe piegate, posizione fondamentale, palla una qualsiasi palla va bene, sarà da fare un giro della palla intorno alla vita, un altro giro della palla intorno alla vita, un doppio otto in mezzo alle gambe, poi torno su, due giri, otto, su, doppio otto, su, doppio otto, su, ci siamo? Il più veloce vincerà la sfida! PAP 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 Scriviti PAP 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 PAP